buonasera amici di sportland dal centro sportivo barona e quarta giornata del campionato di calcio a 11 girone a di fronte kucim e alcazar vediamo chi avrà la meglio attenzione attacca kucim tocco dentro il destro e palla fuori augente ancora groschi diventa un tiro c'è il colpo di testa palla fuori di pochissimo anticipato dal colpo di testa di de marco per conclusione con il mancino fuori attenzione è bella questo pallone posizione regolare uno contro uno dovete portiere destro c'è il miracoloso intervento di esposito che salva attenzione c'è un po di campo per la conclusione non importa è la risposta di esposito ancora prova a partire mettere dentro gervasoni palla che passa destro fuori che occasione te giù gervasoni lo fa bene prova a passare gervasoni dentro l'area il destro la rispetta del portiere sulla conclusione tirocchini tocco dentro colpo di testa esposito la tiene lì lì l'inter posizione regolare sinistro per nicconi kucim 1 alcazar 0 rocchini destro in porta c'è la deviazione e la palla in rete il pareggio di alcazar con rocchini augenti se la porta sul mancino calcia in porta esposito ancora e finisce qui finisce uno a uno tra kucim e alcazar primo punto per la squadra ospite in questo campionato mentre kucim sale a quota 3 e allora siamo qua con gianluca esposito il number one di alcazar oggi partita difficile tante belle parte tue a tenere in vita la squadra che però non ha mollato ha trovato gol del pregio e alla fine questo primo punto in campionato è arrivato sì infatti a differenza delle altre oggi non abbiamo mollato e quindi l'abbiamo ripresa stiamo facendo un po fatica perché abbiamo cambiato un po di uomini quest'anno e quindi all'inizio sapevamo che era così mi ha fatto una domanda nell'uno contro uno in cui hai fatto quel miracolo assurdo come l'hai presa me l'ha tirata addosso sincero e quindi è stato un riflesso per salvarmi la faccia perché ci hai messo la faccia in tutti i sensi esatto perfetto complimenti e alla prossima grazie mille ciao ragazzi